Poi ha sottolineato che lui e tutto il PDL sosterranno il governo e nel pomeriggio sono registrati i momenti di tensione e tafferui. Ci fa la cronaca, Laura Carcano. Brescia, il PDL di nuovo in piazza per solidarietà a Silvio Berlusconi dopo la condanna in appello per frode fiscale a Milano. Lui, il presidente, è qui anche per sostenere il suo candidato alle amministrative del 26 e 27 maggio, ma la scena è tutta sua. Io sono innocente. Grazie a tutti.